Benissimo, questa è un'altra classe italiana, una classe di lingua italiana, ma anche commenti sulla società italiana, sulla cultura italiana, anche dei paragoni con altre società, come quella nuova zelandese, come la New Zealand Society, in generale anche commenti su cosa succede nel mondo, ho dato un'occhiata a Youtube, sono nuovo a Youtube, ho dato un'occhiata, I've been looking around Youtube, e ho notato che tante ragazze, diciamo, straniere, a lotto foreign girls, go to Italy, poor things, e they fall victim of Italian boys, who get them to say things in italiano, now, those things that they say are not very polite, and it's not right, I think I should warn the poor victim of such infantile behavior, to be switched on about and so, this is a class for the not so streetwise traveller, that end up in Italy and find herself in the company of a bunch of seemingly charming, fan-loving boys and men. If you hear words such from this famous song, I'm not sure about the abuse of other people, these words are swear words, that are called the banishers, the banishers, the banishers, tuttanas, sporrere, pompino, scopare, troia, cazzo, culo, sega, limitaci a queste che sono un po' più le più popolari. Queste vengono chiamate these words a swear words of sexual innuendos sono parolacce in italiano le chiamiamo parolacce ecco per esempio ti dicono dai, ripeti con me repeat after me sono una troia sono una troia voglio succhiarti il cazzo I want voglio succhiarti il ghetto no, cazzo brava in quel momento hai stato esploitato ok, per il motivo di una riuscita e poi lo mettendo su YouTube che non è molto bello ok, quindi questa classe è una classe che è più che altro centrada sul centros around warning foreign girls especially come to Italy and find yourself in such a company motherfuckers taking advantage of you and make a fool out of you so from the lowest to the highest level of society from the lowest to the highest level of society there is always il furbo the furbo is a way of life look what furbo means f-u-r-b-o furbo and there is a trait of humanity that is everywhere sure but in Italian there is a very I don't know it's seen as a virtue which is therefore encourage to be a furbo ok that's my class for today ciao and there is a